Allora, la lezione di oggi sarà dedicata alle conseguenze della seconda guerra mondiale, le conseguenze su scala mondiale ed europea. Poi nelle prossime lezioni ci soffermeremo sull'Italia, anche se abbiamo già visto a dicembre la nascita della Costituzione, dunque una parte è già stata svolta. Partiamo ovviamente dalla fine della seconda guerra mondiale, dunque la sconfitta dell'Italia, della Germania e del Giappone. La seconda guerra mondiale dunque termina con il crollo, la crisi delle potenze europee. L'Europa è distrutta. La seconda guerra mondiale ha sancito veramente il tracollo, la crisi della vecchia Europa, quella vecchia Europa che aveva iniziato ad entrare in conflitto con l'imperialismo, che era precipitata nel dramma della prima guerra mondiale, qua è giunta veramente ad autodistruggersi. Quella che era l'Europa anche della Belle Epoque è ormai un lontano ricordo. Possiamo dire che il passaggio dalla Belle Epoque poi alle democrazie degli anni 50 e 60 è avvenuto attraverso delle immani catastrofi. Non è un caso che lo storico Oswald nel suo libro Il secolo breve definisca il periodo che va dal 1914 al 1945, l'età della catastrofe. Probabilmente, ma i conti sono sempre approssimativi, per il periodo in cui nella storia dell'uomo vi è stato il maggior numero di morti, di vittime per violenza politica e militare. Cioè in 30 anni di guerra, che possiamo unire con una sorta di seconda guerra di 30 anni, abbiamo avuto veramente quasi 80 milioni di morti soltanto per le guerre. Oltre 60 milioni di morti della seconda guerra mondiale, ben oltre i 12 della prima, tenete conto anche poi di altre cose, potremmo aggiungere a questi morti ovviamente poi i morti nei gulag, i morti poi di repressione di violenza politica tra le due guerre. Parliamo di quasi probabilmente 80, 100 milioni di morti appunto in poco più di 30 anni, dunque un'epoca veramente violentissima, tanto da parlare dell'epoca più violenta della storia dell'umanità. Vediamo un po' quali sono queste conseguenze. La prima cosa da sapere, Europa anno zero, sicuramente Germania anno zero, da lì partiremo, nel senso che l'Europa è un insieme di macerie, la Germania è rasa al suolo, c'è un'Europa interamente da ricostruire, in Italia è crollato il fascismo, la Francia vede finire l'occupazione, vede crollare la Repubblica di Vichy, i paesi occupati del nazismo sono tantissimi, l'Olanda, il Belgio, la Norvegia, Danimarca, la Finlandia, tutti i paesi dell'est, la Polonia, i paesi dei Balcani, c'è un Nordafrica che è stato teatro di grandissimi scontri e dall'altra parte abbiamo anche un'extra Europa da ricostruire, ma rimanendo all'Europa, l'Europa è di anno zero, una rifondazione dell'Europa. Questa rifondazione dell'Europa in cui possiamo dire è rimasta probabilmente più forte, più stabile, più integra soltanto la Gran Bretagna, in questa rifondazione europea giocheranno un ruolo decisivo, un ruolo fondamentale, le due nuove superpotenze, le due nuove grandi potenze globali, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Dunque a partire dalla conferenza di Yalta, poi quella di Potsdam, a partire dalla spartizione della Germania, a partire dunque dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, assistiamo alla nuova fase storica che caratterizzerà dal secondo novecento, assistiamo alla nascita del bipolarismo, di quello che passa alla storia come la guerra fredda. Dunque, passo due indietro, ricapitoliamo, la ricostruzione dell'Europa avverrà all'interno di una nuova situazione, di un nuovo equilibrio, un equilibrio che si verrà bipolare, l'equilibrio del terrore, l'equilibrio che fuoriesce dalle due nuove superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti sono diventati la prima potenza politica, militare ed economica già a partire dalla Prima Guerra Mondiale e dunque la crescita del dollaro, la crescita dell'economia americana, la potenza muscolare militare americana è già egemone e dominante negli anni 20 e 30, con la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti diventeranno a tutti gli effetti la più grande potenza militare, politica ed economica del pianeta, una superpotenza, una potenza diventerà globale e questa potenza, il crollo dell'Unione Sovietica o 91, il crollo del muro del Berlino 89 rimarrà appunto in piedi e sarà anche poi la potenza, non faccio questi temi di storia, non riesco a farli, ma vi lascio solo un escurso all'attualità quasi, negli ultimi 30 anni questa superpotenza è rimasta tale, cioè la grande potenza con ambizioni a volte di essere il gendarme mondiale, cioè essere la potenza militare che cerca di creare un equilibrio politico-economico-militare a suo vantaggio, a vantaggio del pianeta, se uno pensa che questa politica sia vantaggiosa per tutto il pianeta e tutta l'umanità, cioè è di fatto stata negli ultimi 30 anni la potenza globale unica, a fianco ad essa ne sono nate delle altre, potenze economiche dell'Unione Europea, non chiaramente politico-militare, potenza economica e militare la Cina, potenza militare ma non economica, ma anche militarmente un po' indecchino la Russia, cioè oggi il mondo è multipolare, ma è un mondo multipolare con una potenza molto più forte delle altre, militarmente certamente, economicamente anche che l'America, cioè sono gli istituti d'America, è chiaro questa egemonia è certificata e palese dopo la seconda guerra mondiale. L'altra superpotenza nasce come tale dopo la seconda guerra mondiale, ragazze e ragazzi, ve lo ripeto per l'ennesima volta, nel 1821, in quei tre anni terribili di guerra civile, di comunismo di guerra, di carestia, di violenza tra rossi e bianchi, in quei tre anni l'Unione Sovietica poteva tranquillamente non sorgere, poteva affossarsi ed è stato un capolavoro politico, un miracolo politico, una tragedia politica, sicuramente sempre di punti di vista, l'affermarsi l'Unione Sovietica, ma negli anni venti e trenti l'Unione Sovietica si è affermata a prezzo anche carissimo di violenza politica con lo stalinismo, si è affermata con anche la capacità di pianificazione quinquennale, ma alla vigia della seconda guerra mondiale l'Unione Sovietica non era ancora così politicamente, militarmente, economicamente forte. Certamente era cresciuta la produzione di grano, la produzione di acciaio, l'Unione Sovietica che aveva cominciato un processo di alfabetizzazione, le donne scolarizzate, una crescita c'era stata anche della civiltà, della società che da agraria si era trasformata in industriale, l'urbanizzazione, ma è la seconda guerra mondiale a proiettare l'Unione Sovietica nell'alveo delle grandi potenze, il trasformare della seconda potenza militare, perché la grande alleanza con gli States, con la Francia, con gli inglesi ha fatto sì che l'Unione Sovietica diventasse il paese cardine per sconfiggere il nazifascismo e Stalingrado, la battaglia di Stalingrado, la resistenza di Stalingrado, l'avanzata dell'armata rossa, da S fino a Berlino, la scena del soldato sovietico che si arrampica su Reichstag e Issa, la bandiera rossa, un vero, un fake, dopo si è anche discusso questa bandiera, poi colorata a posteriori, per far vedere il trionfo dell'Unione Sovietica in Germania, c'è tutta la liberazione di Aus da parte dell'armata rossa, tutto questo ha proiettato che cosa? Ha proiettato l'Unione Sovietica nella dimensione mondiale, nell'essere una potenza politica, nell'essere una potenza militare, economica lo diventerà ma non sarà mai l'elemento fondamentale della potenza economica, perché la potenza pianificata avrà di momenti anche di grande crescita, negli anni 50-60, ma poi negli anni 70 inizierà una crisi irreversibile dell'economia pianificata sovietica. Dunque siamo all'interno di queste due superpotenze, due superpotenze politiche, due superpotenze militari dotate di grandi risorse naturali, gli Unione Sovietica possiedono tanto petrolio e ne possiederanno tantissimo anche nei nuovi paesi che andranno a colonizzare, a legare a sé, l'Unione Sovietica possiederà tante materie prime, gas, poi petrolio, sui paesi come il Kazakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirjikistan o nell'area dell'Ucraina. Dunque due paesi anche di grandi risorse naturali, una massa anche importante di uomini, l'Unione Sovietica è sopravvissuta, sconfitto il nazismo che grazie a una massa di uomini che ha saputo contrapporre. Queste due superpotenze daranno provita a un confronto, questo è importante, sottolineatelo, appuntatelo, a un confronto ideologico, perché la guerra fredda sarà una guerra in gran parte ideologica. L'espressione guerra fredda deriva da un corsivo di un giornalista, Lipman, che scriverà un editoriale in cui definirà questa guerra Cold War, cioè una guerra fredda, perché non è combattuta direttamente sul campo di battaglia, non è uno scontro militare diretto, è uno scontro militare indiretto, anche se quella guerra, lo vediamo domani, a un certo momento sarà in un certo molto molto calda, in Corea. In Corea, quando viene divisa in due, la vediamo domani, il XXI parallelo, divisione che esiste ancora oggi, l'ultimo grande muro della guerra fredda, e quando la Corea viene divisa in due e la Corea del Nord invade la Corea del Sud, Corea del Nord comunista, gli americani respingono questa invasione, la contraattaccano, la vogliono sconfiggere e sono quasi anche disposti a utilizzare la bomba nucleare, sarà solo Eisenhower a impedire, a dire no all'utilizzo della bomba nucleare. La Corea del Nord è appoggiata dalla neonata Cina di Mao Zedong, dalla Repubblica Polar, dunque il mondo nei primi 50, ragazzi, è sull'orlo di una guerra nucleare globale, perché nel frattempo l'Unione Sovietica aveva ottenuto anch'essa la bomba atomica, è chiaro, dunque le due superpotenze diventano due superpotenze nucleari, ma che non si faranno la guerra direttamente, la faranno per interporse le potenze, per interporse le fazioni, e dunque la guerra fredda è anche un po' un'ipocrisia, perché è caldissima per migliaia, anche poi milioni di persone che moriranno, in Afghanistan, in Vienna, in Africa, nel Medio Oriente, una guerra fredda tra le due superpotenze, ma una guerra calda. Questa guerra sarà ideologica. L'Unione Sovietica, il socialismo realizzato, lo stato del proletariato che ha preso il potere, il partito unico, il partito dei lavoratori, il partito comunista, faro dell'emancipazione proletaria, dell'economia pianificata statale, e dall'altra parte del pianeta, dall'altra parte dell'Atlantico, gli statuti d'America, il mito degli statuti d'America, gli statuti d'America è la terra della frontiera in espansione, della terra dell'oro, delle libertà individuali, la terra delle libertà, poi abbiamo visto con tutte le contraddizioni, abbiamo parlato degli immigrati italiani, irlandesi, saccovanzetti, la terra delle libertà, ma dell'apartheid più longevole della storia della modernità, perché l'apartheid, la segregazione dura tantissimi anni, dura anche 200 anni in alcuni stati come l'Alabama, la Georgia, la South Carolina, dunque però il paese della libertà, il paese che è entrato in Europa a liberare l'Europa dal nazifascismo, il paese che ha una costruzione, che sancisce il diritto alla proprietà privata, che sancisce il diritto alla felicità, il paese del capitalismo. Da un lato dunque la guerra ideologica vede il paese del comunismo, il socialismo realizzato, il partito bolshevico comunista che ha preso il potere, il partito dei lavoratori e dall'altra parte il partito della terra di due partiti tendenzialmente, poi repubblicani e democratici, che tutela la libertà individuale, la proprietà privata, la ricchezza personale, il paese puritano, il paese del capitalismo. Dunque il messaggio al mondo è un messaggio proprio agli antipodi, il messaggio sovietico è il messaggio statunitense, è chiaro? Dunque due modelli politici, sociali ed economici, l'uomo sovietico e l'uomo americano. Da una parte l'uomo sovietico ha dedito alla patria comunista, il mito di stacolo, il soldato, il primato dello Stato, la collettività, dall'altro il soldato, l'americano, patriota, sì, ma che ha un legame con la patria a partire da quelle libertà individuali. Va bene? Questi sono i due modelli. Cosa c'è sul campo però? Sul campo ci sono macerie e ci sono due punti di non ritorno della storia che io invito ragazzi a prendere in mano e a maneggiare con cura, perché sul campo la guerra ha lasciato tantissime lezioni, ma due cose su tutte. La Shoah, il massacro degli ebrei, 6 milioni, il massacro di Rome e Sinti, di Zingari, circa 500 mila, e di migliaia di gay, lesbici, omosessuali, di migliaia di disabili usati come cavie, di milioni di prigionieri politici arrestati, torturati. Dunque ti ti conto che la guerra si è fatta guerra razziale, biologica, politica, sessuale. Anzi questo è Auschwitz con quegli uomini fantasma, i vivi che pesavano 35, 42 chili, va bene? Le camere a gas che esistevano, nonostante quanto ci dicono che oggi i negazionisti e come funzionavano a pieno regime, le docce, va bene? I forni. Questo è stato Primo Levi e questo va ricordato. Ma è anche ingombrante questa memoria, questa memoria ingombrante, guardate del celebre episodio che avrete visto in classe anche in italiano, del destino di sequestro un uomo che è inizialmente un editore importante, liberal progressista di questa città in audio a cui tanto dobbiamo, se siamo democratici, se siamo progressisti, inizialmente non lo vuole pubblicare, ma perché pensa che non ci siano forse anche gli umori per poter percepire questo libro, un libro così duro, così macabro, va bene? Dunque è scettico, soltanto a posteriori anni 50 dopo che Primo Levi si autopubblica e tutte queste poche migliaia di copie vengono poi velocemente vendute, vengono distribuite, verrà ripubblicato e comincerà anche a essere eletto dalle generazioni che la guerra non l'hanno vista, soprattutto dai 18 anni, 16 anni che vorranno sapere. Questa è stata la seconda guerra mondiale, perché altrimenti la guerra di Trincea scioccò, ma qua lo shock è più radicato anche se per assurdo, vi ho detto inizialmente, lascia meno conseguenze perché la prima guerra mondiale, soprattutto in Italia, portò a casa questi racconti e si costruirono molti racconti, invece qua quasi non si racconta perché c'è un senso di morte, di istruzione totale che pervade i partecipanti o la voglia subito di girare pagina. Invece la prima guerra mondiale ha avuto una eco, una ricaduta sulla personalità dei soldati, dei reduci, anche sugli abitanti forse più radicati. Noi in Italia, per noi italiani, ma in Europa ragazzi Auschwitz, Bergen-Benz, Dachau, Mauthausen, i cancelli che si aprono, questa è stata la seconda guerra mondiale. Secondo punto, i bombardamenti, c'è una guerra di bombardamenti sulle città, dunque la guerra è arrivata a coinvolgere in maniera decisiva, radicale, i civili. Il bombardamento sui civili è stata una norma, da Guernica in avanti, dalla Manciuri in avanti, è stata una norma, Dresda, abbiamo parlato, gli americani distruggono con ore e ore di bombardamenti gli alleati della città di Dresda, più di 100.000 morti, distrutta, Germania no zero, al fin di Rossellini che torna. E' chiaro, Berlino, ma anche altre città, Torino, Milano, Cassino, in Italia, cioè bombardamenti sulle città e poi un bombardamento sugli altri. Hiroshima e Nagasaki, ragazzi. Un bombardamento con armi nucleari, un bombardamento che porta a Hiroshima quasi 100.000 morti, e a Nagasaki 60.000, in pochi istanti. Nagasaki viene sganciato, c'erano molte nubi, un po' di foschia, non viene centrato il centro della città, ma viene lanciato in periferia, dunque ci sono meno morti. L'idea era quello di sganciarla in centro città, è chiaro. A parte di una democrazia, retta da un vicepresidente come Truman, anche dall'ordine, ragazzi. Dunque 100.000, 160.000 morti in pochi secondi e poi migliaia di morti nelle settimane, giorni e mesi successivi per radiazioni, per tumori, poi tutte le deformazioni di figli disabili nati successivamente. Ragazzi, non è una guerra come tutte le altre. Dunque la guerra ha avuto un impatto devastante e senza precedenti. Da lì bisogna partire, da lì, se vediamo alcuni altri riflessi, bisogna ripartire da questi aspetti, bisogna rifondare un ordine europeo, un ordine internazionale. Il punto di partenza di quest'ordine nuovo internazionale dovrà anche essere processari colpevoli. E per quanto riguarda il Giappone e la Germania, i vincitori danno vita a un processo rispetto ai responsabili di quella guerra e i responsabili di quelli che si chiamano crimini di guerra, ad esempio le deportazioni, gli stermini, gli bombardamenti sulle città, ma non Dresda perché i vincitori non processano se stessi. E come si chiamano questi due processi? Già li sapete, almeno uno lo conoscete, Nuremberg e il processo di Tokyo. Partiamo da Nuremberg, così facciamo un ripasso in vista dell'esame. Nuremberg per tanti motivi è stata la città simbolo del potere nazista. Le parate a Nuremberg, le sfidate di Nuremberg, le leggi di Nuremberg, il castello di Nuremberg in cui Goebbels e Mengele sperimentano l'eugenetica, cioè la riproduzione dell'Ariano perfetto facendo accoppiare ragazze emblema dell'arianesimo, cioè ragazze atletiche, biondi, occhi azzurri, formose, con maschi, biondi, occhi azzurri, atletici, cioè figli di persone alti, atletiche, biondi, con gli occhi azzurri, nasceranno figli potenzialmente alti, biondi, figli alti, biondi, atleti, con gli occhi azzurri e i capelli biondi. La città simbolo diventa il teatro di un processo politico-militare e verranno chiamati alla sbarra pochi dei gerarchi sopravvissuti, ve l'ho detto, pochi dei nazisti, perché? Perché Hitler si è suicidato, va bene, perché Goebbels si è suicidato. Tra i più importanti, perché Rudolf Hess è prigioniero in Inghilterra dopo quel suo volo, oltre la manica, il tentativo di far alleare i sassoni agli ariani nel giugno del 40. Perché? Perché altri sono scappati, come Mengele soprattutto, o Eichmann, significativo alla presenza di Goering. Goering è un nazista del secondo momento, perché era un conservatore nazionalista, un indenburgiano per molti aspetti, che negli anni 30, anche capo dell'aviazione, un graduato dell'aviazione tedesca, decide appunto di aderire al nazismo e sarà. E all'interno di questo processo, andiamo a dirvi su due cose importanti, così torno sul concetto che ho spiegato due giorni fa, molti degli imputati, tra cui i banchieri che avevano gestito i soldi dei nazisti o i soldi che gli nazisti avevano sottratto agli ebrei, o fabbriche, la futura Bayer, che aveva dato i gas. Banchieri e imprenditori messi di fronte ad Auschwitz, ai gas, a queste bombe, a questi crimini contro l'umanità, così stabilirà questo processo. Sapete come si difenderanno? Esattamente come Eichmann, alcuni abbiamo obbedito un ordine e altri dicendo ma ci hanno ordinato questi gas, ci depositavano dei soldi. Capito? Cioè abbiamo collaborato perché c'era un potere economico, un potere politico-militare che ci diceva di fare così. Dunque un po' non sapevamo, un po' abbiamo obbedito. Ecco mi sono lavati la coscienza, molti responsabili, perché se voi pensate che il nazismo sia solo ITER, detto che non ci sarebbe nazismo senza ITER, non ci sarebbe fascismo senza Vito Mussolini, forse ci poteva anche essere invece una Spagna fascistoide senza Franco, ok? Perché magari un altro generale ci sarebbe stato, invece il fascismo è un parto veramente di Mussolini, sui collaboratori, e il nazismo è un parto di ITER. Ma il nazismo non funziona senza milioni di persone che lo fanno funzionare. E come vi ho più volte raccontato, non andavi nei campi di sterminio, ok? Perché ti puntavano la postura alla testa, andavi perché ti eri arruolato in quei gruppi speciali, perché chiedevi di andare a fare l'infermiera lì, perché chiedevi di essere l'assistenza di Mengele, l'assistente donno maschio di Mengele, non nel fare gli esperimenti su bambini, gay, lesbiche su disabili. Cioè non è che dall'università venivi deportato alla baracca K ad Auschwitz a fare gli esperimenti con Mengele, andavi. Perché quando il regime è dominante, se tu sei l'assistente di Mengele, diventerai poi quella che continuerà la carriera al posto di Mengele, è chiaro. E anche nell'SS non si andava se non per scelta, non è che ti venivano a casa adesso dentro nell'SS, la gente andava per i soldi, per la carriera, per il prestigio sociale. E dunque il nazismo e il fascismo hanno dato prestigio sociale a spesso delle persone che appartenevano alla fascia medio piccolo-borghese della popolazione o a un proletariato insoddisfatto, che nell'SS, nell'SA prima, o negli apparati di repressione del regime, trovava, ragazzi, un ruolo. E a me spaventa questa cosa. E sapere che delle persone dentro una macchina poi di ordini, che può diventare di morte, obbediscano, spaventa e le vicende di Heiman, l'abbiamo già vista un'altra volta. E qua il testo di Hannah Arendt e del Sessanta è la maledità del male sul processo ad Heiman. Dunque se un uomo che organizza la deporazione degli ebrei si difende dicendo io obbedo un ordine, il male è banale. Qualcosa qua poteva già esserci? Per cui hanno detto obbedito, non sapevo. L'unico che ha difeso la sua linea è stato tendenzialmente appunto Göring, che ha detto obbedito fedelmente a Hitler e ad altri. Ero anch'io responsabile di questo, perché abbiamo creduto nella realizzazione di questo Stato forte, nazionalista, che doveva recuperare il suo prestigio rispetto alle pressioni, alle politiche aggressive della Francia e dell'Inghilterra. E verrà condannato a morte in questo caso. Lui alcuni se la caveranno con nulla di fatto, altri tendenzialmente a morte, qualcuno appunto con anni e anni di prigionia. Questo è il processo di Norimberga, imputati per crimini non solo di guerra, come bombardamenti sui civili, ma anche condannati per i crimini contro l'umanità, quale ad esempio appunto il genocidio degli ebrei. È chiaro perché il genocidio non è solo un crimine di guerra, è un crimine contro l'umanità. E quel tribunale ad hoc di Norimberga lo giudicherà tale. L'altro processo è quello di Tokyo contro i dirigenti giapponesi, va bene, contro i militari giapponesi che verranno appunto, in questo caso, condannati per crimini di guerra, più che crimine contro l'umanità. Perché i giapponesi, è vero che hanno adottato anche essi pratiche di bombardamenti sui civili, ma pratiche di deportazione e di genocidio non ce ne furono. C'è chi dice che le politiche fatte in Cina negli anni 35-36-38 furono politiche razziali di genocidio, l'inimicita giapponese e cinese ancora oggi è all'ordine del giorno. È chiaro quanto Norimberga e Tokyo. In Italia il processo non ci fu, sono tante le interpretazioni. Perché? Probabilmente perché è un paese di confine, un paese che è immediatamente precipitato nelle tensioni poi di un fortissimo preto comunista e di una preoccupazione americana rispetto al futuro di questo paese, che poteva appunto andare verso l'estrema sinistra, per la presenza di una chiesa cattolica che aveva comunque appoggiato il fascismo, va bene? Dunque chissà quali processi che si è potuto portare alla luce. Perché Mussolini è ucciso seduta stante, va bene? In quei giorni lì, dopo il 25 aprile. Perché altri motivi? Probabilmente è considerato meno responsabile della guerra rispetto alla Germania, ci si è concentrati sulla potenza di fuoco militare dei tedeschi. E perché negli anni successivi immediatamente Togliatti, leader del Partito Comunista, che nel governo provvisore, provvisore, dei governi che vanno avanti nel 46 soprattutto, fino al 47 poi Togliatti dovrà dimettersi, ci sono dei governi provvisori che dal 46 fino al 48, quando c'erano le prime elezioni, non quando c'erano le prime elezioni, ricordate quel 18 aprile, 18 aprile del 48. Nei primi anni di governo provvisore Togliatti è ministro della giustizia, è ministro della giustizia. Sapete cosa hanno fatto gli atti del Partito Comunista? L'amnistia. Cioè vengono amnistiati molti reati commessi dai fascisti per poter dare vita a una ricostruzione dell'Italia, altrimenti si andava avanti di vendetta in vendetta. Perché tu a Brandizzo, a Torino, a Milano, a Bergamo, a Segrate o a Piacenza potevi avere vicino a casa tua o a Verona un fascista e sapevi che era stato fascista, allora cosa fai? Lo condanni, lo denunci, lo ammazzi. Quanti omicidi negli mesi successivi, vendette private si consumarono anche, private con il sapore politico, perché tu quando eri hai ucciso mio fratello, hai deportato mio fratello, hai ucciso, hai picchiato mio zio perché tu eri un fascista. E per risolvere questo c'è l'amnistia. È chiaro? Andiamo a parte di questa prima lezione sulle conseguenze. Per ricostruire il mondo nasce un qualcosa che oggi appartiene all'archeologia. Quando voi ci sono delle crisi non pensate mai a questa istituzione se non per dire non serve più a nulla. Nascono nel 1945, negli ultimi mesi di guerra, le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che nasce nella primavera del 1945 a San Francisco, siamo dunque in California. Sapere, nascono le Nazioni Unite. ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite. Va bene, l'Organizzazione delle Nazioni Unite nasce da un progetto che si chiama la Carta Atlantica, già elaborata nel 1944, stesa e progettata. La Carta Atlantica diventerà poi dopo la Carta delle Nazioni Unite. Qual è l'idea? Perché nascono le Nazioni Unite? Le Nazioni Unite nascono per tre motivi, che sono discutate, ma io vi faccio una sintesi in vista anche dell'esame. Uno, per evitare la guerra. Un domani questo mai più. Questo non dovrà accadere mai più. Dunque ci serve un organismo sovranazionale che erediti la responsabilità delle strade nazioni, ma che non sia né efficace né efficiente come la strade nazioni, quella nata sullo posto di Wilson dopo la prima guerra mondiale. Dunque deve essere l'erede, ma efficace e efficiente, più plurale, più inclusivo della sua delle nazioni. E dovrà evitare la guerra, ponendo delle regole, perché le guerre future dovranno essere evitate e qualora scoppieranno dovranno avere delle regole. Secondo motivo, mai più i genocidi, mai più i crimini contro l'umanità, mai più quello che hanno dovuto subire. Gli ebrei, i zingari, gli omosessuali, chiaro, mai più. E ragazzi, questo dobbiamo ribadirlo come direi a Primo Levi, che è un unicum. Io penso che oggi, di fronte anche alle, non solo disputibili secondo me, ma alle politiche che fa Israele rispetto ai palestinesi e alla patricia di Gaza, politiche a mio avviso criminali, non bisogna correre il rischio comunque di equiparare quello che accade, che è violentissimo, che è un crimine, che secondo me fa Israele, alla Shoah, al genocidio. Il genocidio, così come è stato organizzato dai nazisti, è un unicum. Perché se noi usiamo gli stessi termini, forse facciamo un torto, gli stessi palestinesi, perché gli ebrei potrebbero dire, ma non è vero così, accrescete e non si può intervenire realmente. Quello che avviene è un massacro, uno stilicidio quotidiano, un apartheid nella striscia di Gaza rispetto ai palestinesi. Ma non possiamo equiparare il genocidio degli ebrei rispetto a quello che viene. E non vuol dire diminuirne la gravità. Ma soprattutto non bisogna fare qualcosa che alcuni a volte paventano dalla rabbia rispetto alle violenze. potrebbero cominciare a relativizzare, sminuire o equiparare appunto i nazisti agli israeliani o a dire allora a questo punto di non tratto più la Shoah, relativizziamola, tutti questi film, perché è giocato dalla memoria. No, no, no. Ricordiamo quello che è successo. Perché, come dice Primo Levi, non è detto che non possa più accadere. Ok? Perché già Primo Levi, anche insommersi e salvati, lo dirà. Quante violenze c'è nel mondo. Ma quello è un unicum perché è un progetto di morte scritto a tavolino e è un progetto di razionalità. Gli ebrei erano considerati una sorta di spazzatura e dunque in un ciclo di rifiuti dovevano essere presi, va bene, in mezzo ad altri rifiuti, differenziati, selezionati e poi dopo uccisi, massacrati. E' chiaro che c'è una progettazione scientifica, razionale, tecnica, burocratica della morte. E mai nessuno ha organizzato in maniera tecnica, burocratico, uno sterminio come hanno fatto i nazisti, come hanno fatto i tedeschi durante il terzo online. E' chiaro? Va bene questa cosa. Dunque, evitare le guerre, normare le guerre, impedire futuri genocidi, crimini contro l'umanità, deportazioni, massacri di minoranze etniche, sociali, culturali. 3. Promuovere lo sviluppo economico. Promuovere lo sviluppo economico. Promuovere lo sviluppo economico e i diritti umani che vanno di pari passo. Dunque, è chiaro che questa carta atlantica e l'ONU nascono da quale mondo? Dal mondo cinese? No. Dal mondo dell'Africa? No. Dal mondo orientale? No. Sono il prodotto della tradizione europea e occidentale liberale, in primis, con eventualmente elementi di socialdemocrazia, socialisti. E' chiaro? Dunque, l'idea dello sviluppo collettivo e dello sviluppo individuale. Come vengono strutturate le Nazioni Unite? Così. C'è un'assemblea generale di cui fanno parte tutti gli stati che firmano i trattati di fondazione e che firmano la dichiarazione dell'uomo e dei diritti dell'uomo. Nel 48, dunque, c'è una dichiarazione dell'uomo. Se firmi la dichiarazione dell'uomo e i trattati fondativi delle Nazioni Unite, ne puoi entrare a far parte. Firmare, potrei dire, non costa nulla, perché poi puoi firmare e non rispettare i diritti umani. Cosa cambiene. Però quello era l'atto. Tu devi aderire firmando volontariamente. E tutti i paesi possono entrare a far parte, possono essere monitorati dagli altri e vedere se tu in realtà hai le credenziali per entrare. Inizialmente sono poco più di 50 quelli che ne entrano a far parte. E' chiaro? Vi viene fatto entrare a far parte l'isola di Formosa, Taiwan, e non la Cina popolare comunista. Secondo organismo importante da sapere è il Consiglio di sicurezza, che ancora oggi è in vigore. Ci sono 15 stati che fanno parte delle Nazioni Unite, 5 in maniera permanente, che fanno parte delle Nazioni Unite, che fanno parte di un Consiglio di sicurezza. 5 che sono sempre in pianta stabile. Inizialmente erano 4, Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Unione Sovietica. Poi 5, la Cina. Quella poi comunista. Questi 5 Paesi hanno il diritto di veto sulle decisioni del Consiglio di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza può decidere un intervento militare delle Nazioni Unite, può decidere un embargo, può decidere delle politiche internazionali, ma se uno solo di questi 5 mette il veto, le Nazioni Unite non possono operare in quella direzione, non possono proporre quella risoluzione. E' chiaro? E dunque potenzialmente sono bloccate dei veti incrociati tra USA e URSS, che dominano il Consiglio delle Nazioni con il diritto di veto. Sono 15, gli altri 10 Paesi a rotazione ogni due anni con una proporzione tra continenti. Alcuni Paesi porteranno all'Africa, alcuni all'America Latina, alcuni all'Oriente, alcuni all'Europa. 5 fissi, gli altri 10 a rotazione ogni due anni, ma gli altri 10 che entrano non hanno il diritto di veto. Ecco qual è l'idea, e chiudo. L'idea è quella di produrre un organismo internazionale che emanerà delle convenzioni importanti. Io vi ricordo soltanto le convenzioni di Ginevra, degli anni 50, per i prigionieri di terra, di acqua e di cielo. Cioè i prigionieri dell'aviazione, dell'infanteria, della marina, vanno trattati in maniera dignitosa. E ci sono delle regole ben precise, devono avere l'acqua, devono avere il pasto, devono essere curati se feriti. Le regole per i rifugiati politici, quelli che oggi non vogliamo riconoscere. Quando scappi dalla guerra, da un Paese che è in guerra, da un Paese che vuole invadere, hai il diritto di essere rifugiato. E altre convenzioni, gli anni successivi, le convenzioni contro le armi chimiche, contro i bombardamenti dei civili, convenzioni che vogliono regolamentarti la guerra, non puoi, ad esempio, bombardare la Croce Rossa, non puoi impedire i soccorsi, non puoi vestirti come un nemico per ingannare. Tutte regole. Non puoi, convenzioni sempre delle Nazioni Unite, non puoi bombardare e distruggere patrimoni culturali dell'umanità, monumenti, chiese, palazzi. Perché? Perché è un patrimonio che abbiamo deciso che non deve essere. Le Nazioni Unite, chiudo, continueranno poi con la dichiarazione dei diritti sociali, economici, diritti delle donne 89-90, diritti dei bambini. Le Nazioni Unite diventeranno una miniera d'oro di produzione di diritti di giustizia e libertà, ma saranno un nano nel provare poi a concretizzarle e a realizzarle.